Tutti pronti per ricominciare a disegnare? E allora ricomincia il corso di disegno! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Come state? Felice settembre a tutti, felice settembre a tutti! Settembre il mese in cui da tanti anni ormai ho perso il conto, sarà il settimo ricomincia il corso di disegno di arte per te Siete tutti pronti? Le matite sono ben appuntite? Il corso ricomincerà ufficialmente giovedì 24 settembre alle ore 21 Sarò qui in diretta su Youtube per assegnare il primo compito dell'anno 2020-2021 E allora, se vuoi partecipare al corso di disegno di Arte per Te Corri sulla pagina Facebook di Arte per Te E scrivimi sui messaggi privati dicendomi che vuoi partecipare Il costo di iscrizione come l'anno scorso è di 100€ solamente per l'ingresso al corso Dopodiché tutti i 4 anni più 1 di corso sono assolutamente gratuiti Se vuoi fare parte della prima classe del corso di disegno di Arte per Te Partecipare è semplicissimo Ti basterà iscriverti sul canale Arte per Te E sulla pagina Facebook di Arte per Te Tramite la pagina Facebook di Arte per Te Fammi arrivare un messaggio privato con il tuo nome, il tuo cognome e la volontà di iscriverti Mentre vai sulla home page del canale YouTube Arte per Te Proprio qui Clicca dove c'è la scrittina qui sotto Arte per Te E ti si aprirà l'home page del canale In alto sulla sinistra troverai il tasto Paypal Cliccalo e fai lì il versamento di 100€ per iscriverti al corso Molti di voi a questo punto diranno ma io non ho Paypal Non importa Scrivetemi tramite messaggio privato sulla pagina Facebook di Arte per Te E vi sarà inviato l'Iban a cui fare arrivare la vostra iscrizione Il corso vi ricordo che si tiene principalmente su Facebook e su YouTube Su Facebook posto i compiti Su Facebook faccio le correzioni per iscritto Poi su YouTube quando posso il più delle volte faccio anche le lezioni virtuali La sera del giovedì per le correzioni live Quindi le iscrizioni a questi due social sono necessarie Non si può partecipare al corso essendo iscritti solo a Facebook o solo a YouTube Qui giù in infobox lascio l'elenco di tutto il materiale che vi potrà servire per iscrivervi al primo anno Ma non vi preoccupate sono pochissime cose Vi lascio anche per facilitarvi un po' le cose I link di tutti i materiali in modo che voi se volete comprarli online Semplicemente cliccando troverete la cosa giusta che vi può servire lungo tutto il corso dell'anno E comunque le ripeterò farò un elenco per tutti gli anni Dell'occorrente durante la live del 24 settembre alle ore 21 qui su YouTube E allora il corso ricomincia secondo, terzo, quarto anno e senior Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti Per coloro che vorranno fare parte del primo anno Mi raccomando scrivetemi tramite la pagina Facebook di Arte per Te E io vi indirizzerò proprio in maniera facile facile su come iscrivervi nel migliore dei modi E con la giusta riuscita La sera del 24 durante la diretta dirò anche chi sono gli iscritti al primo anno Assegnerò anche i nuovi compiti in quella circostanza Mentre il 24, gli anni dal secondo ai senior che hanno svolto i compiti di disegno Non postate nulla Perché vi chiederò io quando postare i lavori estivi svolti durante quest'estate Che è volata via troppo velocemente, non pensate? Ma come si svolgerà quest'anno il corso? Molto semplice Io a turno ogni giovedì assegnerò un compito ad una classe differente E darò la data di consegna ben specificata nella foto che andrò a postare Nella foto che posterò che sarà il compito che la classe dovrà riprodurre Io in didascalia metterò la tecnica di riproduzione E quando postare la foto Entro quando postarla Dopodiché ho deciso che per quest'anno voi posterete entro martedì Alle ore 12 In modo che io abbia tutto il pomeriggio del martedì E tutto il mercoledì e parte del giovedì per correggervi E quindi attenzionarvi molto molto seriamente E allora voi posterete questi disegni Poi io li riposterò sulla home page della pagina Facebook di Arte per te E alle 21 del giovedì Successivo al martedì in cui voi avrete postato Sarò in diretta alle 21 qui su YouTube Per parlare live dal vivo con voi In modo che voi possiate pormi tutte le vostre domande E sulle difficoltà incontrate negli esercizi Voi potrete postare i vostri disegni sulla pagina di Arte per te Dal lunedì Dalle 8 del mattino Sino al martedì Alle 12 A mezzogiorno E adesso vi faccio vedere Come postare un disegno Sulla pagina Facebook di Arte per te Sulla pagina Facebook di Arte per te Fatto questo Aspettate A un certo punto Durante il giorno successivo O lo stesso giorno Arriverò io a commentare il vostro disegno E vi farò notare tutte le discrepanze con la foto originale Non vi preoccupate Non ci sarà nessun giudizio di merito Non ci sarà nessuna gogna mediatica Siamo tutti qui per imparare Dopodiché io correggerò i vostri compiti La correzione viene fatta solo Esclusivamente E soltanto da me Non ci sarà nessun giudizio di merito Ma soltanto appunti di ordine tecnico Io mi muoverò Affinché voi cogliate Quelle manchevolezze Che vi faranno superare Passo dopo passo Tutte le vostre difficoltà Una volta che avviene la correzione Io il vostro compito Per farlo vedere a tutti L'ho riposto sulla home page Della pagina di Arte per te Quindi il giovedì sera alle 21 Potremo parlare di tutti i vostri dubbi E impostare anche il lavoro per il disegno successivo Il corso di Arte per te è molto semplice Da portare avanti Si basa sulla vostra disponibilità Nell'imparare Sul vostro entusiasmo Sulla vostra voglia di disegnare E vedrete che in un anno Farete faville Per gli iscritti al corso Naturalmente io sono sempre disponibile Per qualunque chiarimento Domanda Mi trovate qui Se volete lasciate un commento qua sotto O sulla pagina facebook di Arte per te Tramite messaggi privati O tramite i commenti ai post che vi interessano E naturalmente Se volete Anche su direct in instagram Quindi cercate Arte per te Anche su instagram Perché lì è anche più facile messaggiare E allora Io vi aspetto tutti Pronti con le vostre bellissime matite in mano Per disegnare un anno bellissimo Ci vediamo Giovedì 24 settembre Alle ore 21 Qui su youtube Su Arte per te Con tutte e 5 le classi Del corso di disegno Per avviare L'anno 2020-2021 Le iscrizioni al primo anno Di corso Saranno aperte Fino al 30 ottobre Quindi fino al 30 ottobre Avete tempo di decidere Se voler far parte Del primo anno di corso Della classe di disegno Di Arte per te Bene Vi aspetto numerosi Vi aspetto entusiasti Come ogni anno Vi aspetto Quindi basta parlare Ci vediamo Giovedì 24 settembre Alle 21 Qui su youtube Da Ombretta E da Arte per te È tutto Alla prossima Ciao Ciao